Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un blando anticiclone delle Azorre protegge la nostra penisola dalle perturbazioni. Nei prossimi giorni si andrà in debo lento, permettendo l'arrivo di rovesci e temporali da prima al centro nord e poi al sud. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per sabato 23 settembre. Al mattino cieli generalmente sereni su entrabbe le regioni, dal tardo pomeriggio e sera arriveranno nubi medio-alte a coprire i cieli, ma in assenza di fenomeni. Per quanto riguarda le temperature, in rialzo sia nelle minime che nelle massime, con punti di 25-27 gradi sul Salento. Venti deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti meridionali sullo Ionio. Per quanto riguarda i mari, generalmente calmi, con moto ondoso in aumento solamente sullo Ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alessandro Damone, per averci reso partecipi di questo gioco di colore che hanno caratterizzato, qualche giorno fa, l'alba dalle coste e brindisine. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e all'email che vedete in sopra impressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.